riprendiamo un attimo la cosa dei vettori perché poi useremo da qui in poi sempre quindi se non vi ricordate recuperate quei gli altri video che ho messo e ora facciamo insieme un esercizio sui vettori allora intanto riprendiamo il caccio di vettore quindi magari facciamo vettore di float di double quindi numeri double e gli do dei valori per esempio questi valori qua ok cosa vogliono dire intanto mi dà errore perché non è un vettore ci vogliono le quadre qua ok cosa sono le quadre perfetto vuol dire che è un vettore quindi contiene più valori dello stesso tipo tutti da ball la virgola attenzione in america non la fanno progetto mille volte non la fanno con la virgola ma col punto quindi 45.6 numero decimale caso punto 3 4.5 e 4 sarebbe punto 0 e 7 e 10 che posso mettere punto ok quindi un vettore di quanti elementi di 1 2 3 4 5 6 elementi perfetto quindi proviamo a mettere per esempio console punto bright line numeri di posto 0 cosa visualizzerà visualizzerà il primo perché gli indici vanno da 0 fino a 0 1 2 3 4 5 da 0 a 5 sono sei elementi 0 e questo qua elemento 1 questo qua 2 3 4 5 e al severo allora non riposto 0 45.6 pollici mette in automatico la virgola perché usa usiamo windows in italiano e quindi mette la virgola l'italiana perfetto poi numeri posto 1 sarà 78.3 infatti il volante ne va bene la converte in italiano questo per casinarci le idee 4,5 perfetto dove sono fare tutti no mettiamo l'ultimo quindi 0 1 2 3 4 5 uscirà 10.5 che è l'ultimo se facessi i numeri di posto 6 e no index out of range exception quindi sono andato fuori dal range del re del vettore chiamatelo come volete il reo vettore in inglese italiano non c'entra nulla con fisica quindi i numeri di posto 6 perfetto se io mettesse invece numeri punto length quadrilunghezza in inglese perciò mi da 6 perché sono 6 elementi 3 4 5 6 proprio li conta mettiamo due elementi magari ed esce 2 perfetto ok rimettiamo un po di numeri allora vogliamo visualizzarli abbiamo già visto che c'era il for quindi utilizziamo solito i come contatore manca la condizione i minore di cosa il minore del numero di valori ok numeri punto length e ma vi direte ma l'ultimo però no c'è ultimo sì però se io ne ho 1 2 3 4 5 come in questo caso lui deve andare da 0 1 2 3 a 4 ok da 0 a 4 è giusto perché va da 0 fino al minore di 5 quindi da 0 a 4 non ci credete non so al punto bright line avete avere fede ok vedete che 0 1 2 3 4 quindi la iva da 0 a 4 noi adesso anziché scrivere numeri di posto 0 numero di posto 1 numero di posto 2 eccetera scriviamo numeri di posto in questo modo visualizzerà il numero di posto 0 che questo senza la virgola numero di posto 1 avete capito vediamo quindi avremo tutti i nostri valori del vettore perfetto adesso voglio metterli in riga anziché andare a capo ogni volta basta che metto bright poi gli aggiungo per esempio uno spazio se questo uno spazio vuoto vedete che me li mette tutti uno dopo l'altro ok sono che farlo più come vi pare ok invece vediamo un esempio un po più interessante cioè voglio far la somma voglio sommare i valori del vettore e dire all'utente ok facciamo una variabile double che chiamo somma uguale al 0 inizio vale 0 devo inizializzarla si dice inizializzo a 0 va bene ogni volta che faccio il ciclo io devo mettere dentro somma il valore del numero del vettore perciò somma uguale a somma più numeri di posto e attenzione non è come in matematica questa cosa non ha senso ma mi sta dicendo guarda che il nuovo valore di somma ok sarà il vecchio valore di somma che inizia 0 più il numero del vettore che sto vedendo in questo momento qua quindi la prima volta farà 0 più numeri di posto 0 45.6 e quindi sono diventerà guarda 5.6 la seconda volta farà quando 5.6 più e tentato punto 3 diventerà bo 112 3,9 poi la terza volta farà somma quindi 100 qualcosa di prima più 54 e lo metterà insomma vediamo se è vero quindi scrivo il valore di somma ogni volta che faccio il ciclo vediamo la prima volta 45 6 la seconda volta è la somma di questi due 123,9 ok la terza volta la somma di questi tre la quarta volta la somma di questi quattro quinta volta la somma di questi cinque funziona certo però l'utente chi se ne frega non vuole vedere tutto volete solo il valore finale quindi lo metto fuori dal ciclo in modo che solo alla fine del ciclo vedete sono fuori dal ciclo fa vedere la somma nel diciamo che cosa adesso no somma dei numeri più punti sono utente non capisce mai somma dei numeri questa fantastico io cambio i numeri a caso aggiungo tutti i numeri che voglio così grande magari perfetto nuova somma è questa quindi questo va bene per tutti i vettori di tipo double anche altri numeri va bene per sommare tutti i numeri contenuti nel vettore se volessi farla media basterebbe fare somma fratto numeri punto length cioè la somma dei numeri fratto la lunghezza del vettore se vero ma sarà questa controllate magari da occhio dire si va bene quindi voi con il suo studio oppure la versione online sul sito provate anche vuoi fare questa cosa qua provate a cambiare i numeri mentre quello che volete provate a farlo anche con gli interiore a farlo con altre cose e vedete che verificate per compito che effettivamente la somma sia quella che ha calcolato e anche la media poi se qualche calcolato il programma così siano sicuri che è giusto fatelo pure con excel per controllare se è vero va bene alla prossima grazie 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 grazie